E' un'altra domanda. Anche se in passato qualcuno vi ha lodata per aver scagliato un dardo a favore di quelli che voi ritenete miseri e forse sono soltanto miserabili. Sarai presa in mane a cercare di colpire la luna con un ciottolo di frombola. Amate servirvi di metafore infiorettate di cui si fatica a cogliere la sostanza? Vuol dire che questa volta vi toccherà usare armi diverse da un po' di vino annacquato. E spero che voi non vogliate servirvi nuovamente della fiamma del camino. Grazie. 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 Grazie.